E canteremo crema, la curva sarà piena, sarà un unico coro... Abbiamo qui con noi Paolo Brambatti, tifoso storico, cremino doc e cremasco anche. Volevamo chiederti da dove nasce la passione per il crema. Partendo da una citazione del nostro inno, la mia passione dice che fin da bambino sono cresciuto così perché mio nonno prima, mio padre poi e poi con i miei mezzi raggiungevo lo stadio Voltini per seguire la squadra. Poi avrai seguito un pochettino la squadra quest'anno e cosa ne pensi della stagione? La stagione è partita con degli auspici molto importanti e speriamo che le promesse vengano mantenute. C'è stato un piccolo calo qui a gennaio ma siamo fiduciosi perché adesso le cose sembrano che si siano rimesse a posto. E sul nuovo allenatore ci vuoi dire qualcosa? L'allenatore mi sembra che abbia riportato un po' di ordine all'interno dello spogliatoio della squadra su come si dispone in campo. Mi sembra che ci sia un rinnovato entusiasmo e le prime due partite hanno portato anche sei punti che non è male. Poi domanda un po' scomoda, cosa cambieresti o cosa aggiungeresti alla squadra? Nella squadra, le partite che ho visto, ho sempre visto una squadra che tiene il possesso palla, che tiene il gioco in mano. Quello che non vedo è la cattiveria nel chiudere gli incontri, quindi lasciare sempre la partita sul 1-0 e spesse volte abbiamo subito delle disattenzioni in difesa che ce ne sono costati parecchi punti, soprattutto con le ultime squadre di classifica. E pensi che c'è un problema dovuto all'assenza di un vero bomber oppure è una questione mentale? No, io penso che si sia pagata un po' la partenza di Baresi, che era anche bomber oltre che un leader difensivo. Risolveva qualche partita, dici tu, magari da carcere d'argo. Sì, adesso confidiamo in Belleri. Quindi se tu potessi aggiungere qualcosa, aggiungeresti Baresi? Ma riporterei a casa Baresi. Bene, grazie mille. Grazie a voi.